Furti nessun allarmismo, a sottolinearlo il comandante provinciale dei carabinieri di Sernia Vincenzo Maresca che alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato il capologo Pentro e il suo Interland ha voluto precisare che il numero dei reati contro la proprietà è in linea con gli anni precedenti. Non è sicuramente un'ondata di furti perché possiamo ricordare quello dello scorso anno in Alto Molise lì potevamo dire, anche se la parola non mi piace, ondata di furti che però è stata contrastata benissimo sia da noi che dalla Polizia di Stato con un cambiamento degli orari delle pattuglie e quindi un abbassamento del numero di reati. Stamattina abbiamo controllato proprio questo e diciamo il numero dei furti in abitazione è uguale agli scorsi anni si può paragonare a quelli di 2018-2019, anni anche senza pandemia. Molte volte, ha spiegato inoltre il comandante, i ladri hanno vita facile a causa di una prevenzione non ottimale da parte dei cittadini. Negli scorsi giorni ci sono stati alcuni furti ma possiamo dire che abbiamo notato per tutti delle peculiarità cioè i sistemi di antintrusione praticamente erano quasi completamente inesistenti addirittura in un furto avvenuto nel circondario non c'era nemmeno la serratura nella toppa e quindi dobbiamo evitare che i ladri abbiano gioco facile. La conformazione del territorio è particolare, le pattuglie sul territorio ci sono sia nostre che della Polizia di Stato però delle raccomandazioni ai cittadini dobbiamo farle. Il primo di tutto è di adottare delle idonee misure di autotutela e molte volte il sistema di allarme c'è ma non è inserito perché magari il proprietario di casa si dimentica. Poi di avere dei buoni rapporti di vicinato visto che molte sono abitazioni isolate e quindi quando qualcuno lascia casa da sola magari avvertire il vicino che nella villetta a fianco non c'è nessuno in modo che il vicino possa dare un occhio e questo può avvenire a vicenda. Abbiamo visto che si sono intensificate le telefonate al 112 per segnalarci macchine sospette però questo non è mai abbastanza nel senso che il 112 è a disposizione così come il 113 della Polizia bisogna chiamare, bisogna segnare i numeri di targa, avere una sicurezza partecipata da parte dei cittadini e quindi aiutarci a fare il nostro lavoro. Queste telefonate ci hanno aiutato, abbiamo fermato le macchine che ci hanno segnalato e sicuramente abbiamo sventato dei furti, non possiamo sapere quanti perché l'attività preventiva è fatta da un numero scuro però sicuramente abbiamo evitato che se ne perseguissero altri e poi avere anche dei buoni sistemi di videosorveglianza perché una volta effettuato il furto almeno abbiamo la capacità di individuare gli autori e di reprimere il reato e non permettere che ne vengano altri.